Marina, stavamo dicendo a proposito dei talent di tanti giovani che tentano anche questa carriera, non sempre è facile, ecco ci spostiamo più al centro? Sì, e beh fate bene a dare la possibilità perché insomma chi ha veleità artistica e chi si sente questo fuoco dell'arte dentro deve avere la possibilità di esibirsi in qualche trasmissione, siccome non c'è solo X Factor, insomma è difficile arrivare lì, per cui anche da qua si può partire, può essere un trampolino di lancio. Ecco ma ci sono oggi più giovani che tentano la carriera rispetto a qualche decennio fa? Sì, tantissimi, direi quasi tutti. Infatti chissà perché è una carriera molto ambita, piace molto. Che consiglio vorresti dare? Tante esperienze, tanti festival. Cioè direi di tentare senza false illusioni, però naturalmente sempre con una base di studio, bisogna studiare, bisogna salire sul palco sapendosi muovere sul palco, sapendo tenere un microfono in mano, sapendolo usare, sapendo usare la voce, non è facile ragazzi, studiate. Per questo consiglio, poi con la musica ci rivediamo più tardi, adesso seguiteci perché sto per incontrare un personaggio a me molto caro, sigla di Confidenzialmente Con.